Grazie. Grazie. Eccolo qua. Eccolo qua. E allora, come sta questo piccolo? Ciao giumpo, ciao. Dove stai? Viva bene. Ti sei un po' stufato di stare qui? Un pochetto. Un pochetto. Ma come va? Sono bene? Buonasera. Buonasera, signora. Molto piacere. Molto piacere. E' bene, bene. Stiamo a vedere qua. Andiamo a vedere questi pezzi. Ecco, è carino. Dove c'è quel signore? Normalmente è un po' cattivaccio. Ecco. Vedi che è bello. E' una parte animale. Non mi amo. Non mi amo. Non mi amoro. No. Non. Non... Grazie. Grazie.